E ancora una volta già ragazzi, per tornarti sul mio fantasquido, raga scusatemi se ieri non ho portato un video o due, ma non ho potuto, raga però scusate il rumore ma siamo in una vita scolastica e si sente parecchio rumore. Vi faccio vedere, qua è dove siamo alla gita, ci vediamo tra poco. Raga, eccoci entrati qua in un corridoio. Siamo in un corridoio, però ora non mi vedrete molto, vedrete solo la bassa luminosità. Perché noi siamo entrati qua, guardate che bel quadro, è un quadro quello. Scusate ancora per il rumore, ci vediamo dopo. Raga, siamo una mostra guidata. Per le undici e mezza dobbiamo farcela, che c'è una mostra guidata qua, dove siamo. E quindi non vedrete molto bene. Raga, stiamo andando ancora al buio. Scusatemi per la bassa qualità. Raga, eccoci. Guardate che bei macchinari. Belli, vero, i macchinari. Ora andiamo ancora avanti. Scusatemi per la bassa. Scusatemi per la bassa. Scusatemi per la bassa. Raga, eccoci. Guardate che bel macchinario. Ve lo faccio vedere più in fondo. Eh, più di così non si può. Ma una cosa che vi piacerà. Iphone it Un bel telefono Qualcuno vuole un telefono? Venite qua Venite qua se lo volete Un telefono Raga Qua dove sono C'è ancora Due cose che vi posso far vedere Perché non so Più cos'altro farvi vedere Questo Che cos'è? Qua è vetro Ma sotto C'è qualcosa sotto che non capisco Scrivetelo nei commenti Se sapete cos'è Però Questo E' uscita una P Poi A Vediamo che esce C K A G E N In tutto Pa Pacica Pacicca Pacicca G Oh Pacicca Com'era? Pa Pa Scusate Pacca G E pacca G Raga Raga Una cosa che È la mia preferita Un passaggio segreto Credo C'è C'è Questo Sembra Un passaggio segreto Perché Vi mostro Raga Vi mostro Una cosa splendida Questo Sembra Un Normalissimo Armaggio Ma Questo Si tira Ed eccovi Scusate Non riesco Ma È per vedere In realtà Non è un passaggio segreto È Un armadio Per Vedere Dentro Ora Qua È una Carriola Raga Scusate Ho male Al braccio Ci vediamo Dopo Un attimo Raga C'è Una cosa Splendida Un Tipo Di Gioco Ve lo Mostro Questo È un Tipo Di Gioco Che Si Tira Questo In Basso E Guardate Un attimo Un attimo Aiuto Raga È troppo È troppo Pesante Raga Un attimo Eh Non so Dove Mettervi Qua Guardate Eh Visto Non è una cosa forte E ora Questo che sembra Un tipo di specchio Deformante Eh Visto Oh Raga Telecamere Di Sorveglianza È È una cosa forte Tutta Tecnologia Cos'è Cos'è Eh Scusate Raga Vi faccio vedere Qui Un altro macchinario Che vediamo come funziona Si mettono I piedi qui E Questo Mi sento Vibrare Tutto Raga Mi sento Vibrare Proprio Tutto Questo Bisogna Tirare E mi sento Vibrare Tutti I piedi Raga Bisogna Stare Così Ecco E ora Raga Forse È una macchina Per Per M'assaggiare I piedi Perché Vibrante E come Tutti Sappiamo Le cose Vibranti Massaggiano Molto Raga Rieccoci Guardate È un altro Macchinario Eh È È un altro Macchinario Forte Ma 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 Non so Cos'è Ci vediamo Dopo Raga Però poi Vi mando Delle foto Che Che c'è In realtà Vi mando No No Non si può 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 Se riesco Vi mando Delle foto Raga Ancora Una cosa E poi Vi faccio Finire Possibile Passiamo Raga Ecco Qua è una maschera Vieni qua Beppe Bitch Cire Scusate Il rumor Beppe Scusate Raga Leggiamo Però scusate Il mio Amico Però Leggiamo Colla Dentro Fuori Colla Sopra Sotto Blu Sarà In inglese Però Qua È una maschera Raga Vabbò Per oggi Il video Finisce qui Vi ringrazio Per tutto Il sostegno Che mi state Dando Però Scusate Ancora Se ieri Non ci sono Scusate Il mio Compagno Di classe Saluta Ciao Belli Raga Edoardo Biondo Raga È la mia Compagno Di classe Anche io Ciao Ciao Raga Scusate Ancora Se ieri Non ci sono Riuscito Per Vloggare Vabbò Raga Per oggi È tutto Vi compaiono Tre i video E da Mille Stendini Out Ciao 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 Ciao